Oh, è una data storica per il nostro paese. Hai visto chi hanno ritrovato? Dopo anni e anni, e dicevano che era impossibile, hanno ritrovato... L'agenda rossa di Borsellino. Ma no! No, perché la borsa la ritrovarono. Fece un via vai di mano in mano, però l'agenda rossa non c'è. Ma no! Hanno ritrovato... Il contenuto della borsa del generale dalla chiesa. No! I documenti mancanti di Aldomoro. No, perché non tutti vennero ritrovati. No! Ah, la memoria del computer di Giovanni Falcone. Computer che lui lasciò al Palazzo di Giustizia e qualcuno... Ma no! Hanno ritrovato... I registri e i nastri radar delle torri di controllo la sera di Ustica. No, perché là la verità c'era. Ma no! Il contenuto della borsa di Roberto Calvi. No! Perché tu sai che pure quella venne ritrovata vuota. No! La verità sulla fine di Enrico Mattei? No! La verità sulla scomparsa di Emanuele Orlandi? No! Allora la verità sulla morte di David Rossi? No! La verità sulla strage di Bologna? No! La verità sulla scomparsa di Emanuele Orlandi?